Ciao a tutti amici e amiche del seno del leone, bentrovati con il vostro rosco per la settimana che va dal lunedì 20 a domenica 26 giugno 2022, grazie per esserci sempre, questo è un video particolare perché l'ho suddiviso in 9 sezioni che corrisponderanno a 9 settori o sfere della vostra vita, sono energia generale quindi non posso valere per tutti per quello mi invito a optare per i miei consulti privati di Cartomanza, vi lascio qui sotto tutto nel box informazioni, lasciatemi un like, un commento, un feedback e iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra, benissimo, incominciamo con eventuali novità o comunicazione all'orizzonte per voi cari amici, abbiamo voglia di rischiare o mettersi in gioco con il set di coppe, qua potrebbero esserci varie opportunità e varie comunicazioni, varie proposte che riceverete sui più fronti da puntista di rapporti, di lavoro o anche da puntista di sfera economica, sicuramente ci saranno delle scelte da compiere, valuterete bene dei dettagli pro e contro di queste proposte, di queste alternative, deciderete perché qua c'è proprio la vostra voglia di mettervi in gioco, di mettervi in discussione, quindi sicuramente qui la scelta ci sarà e la farete comunque senza troppo tentennare, ok? Vediamo ora la sfera amorosa, abbiamo bambino, figlio, fertilità e lotto di coppe. Allora, qua potrebbe esserci o un concepimento o la nascita di un bambino o comunque un periodo fertile per la coppia, però durante questa settimana, nonostante le cose vadano anche bene fondamentalmente nella coppia, in amore, qui probabilmente nonostante tutto manca un quel piccolo tassello di puzzle che vi farebbe star felici al 100%, probabilmente quel tassello potrebbe essere anche il fatto di voler un figlio o comunque di allargare la propria cerchia familiare. Qui però è un periodo comunque fertile se volete mettere in cantiere un bambino, ovviamente, mi raccomando, sono sede generali, la cartomanzia non è nulla di certo, prende tutto con le pinze, ok? Poi, sfera delle amicizie, abbiamo i segreti con il diavolo, attenzione perché qua c'è uno o più amici che vi stanno nascondendo un qualcosa anche di grosso, di importante, perché qua c'è proprio la carta del diavolo, quindi attenzione perché potrebbe esserci anche delle amicizie che si sono troppo legate a voi, anche in maniera un po' morbosa, però attenzione che quando meno ve lo aspettate ve la possono mettere in quel posto, qui ci sono segreti, ok? Da parte di amicizie, ovviamente qua può essere amicizia maschile o femminile, però attenzione agli amici che frequenterete o che state frequentando proprio durante questa settimana o periodo, ok? Qua potrebbe esserci anche un amico che anche, potrebbe essere anche affine a voi da puntista fisico, sessuale, quindi vorrebbe anche un approccio sessuale, ok? Poi abbiamo la sfera familiare e della casa, paura di ripetere gli stessi errori e il quattro di denari. Allora, qui attenzione soprattutto ai genitori, non siate troppo iperprotettivi nei confronti dei vostri bambini o dei vostri ragazzi, è giusto comunque essere una figura di riferimento per loro, però è giusto anche lasciarvi i loro spazi, quindi non cercate di opprimervi, opprimere i vostri figli perché avete paura che potrebbe accadere qualcosa, avete paura comunque di quello che appunto potrà accadere in ambito domestico. Qui c'è la paura da parte vostra, da parte di qualcuno, di ripetere dei vecchi cicli o schemi che si erano già vissuti in passato in ambito domestico, in ambito familiare. Qui c'è anche un senso di possesso, quindi mi raccomando, attenzione perché il possesso in questo caso è comunque in un'accezione negativa, ok? Poi sfera lavoro e ambito burocratico, ferita emotiva e 10 di spade, per il lavoro non andiamo per niente bene, c'è una ferita che vi ha preso comunque nel profondo del vostro cuore o che l'avete già vissuta, quella subirete proprio durante questa settimana o in ambito proprio di documenti, di contratti o proprio in ambito lavorativo. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che vi ha messo a tappeto, dovete avere la volontà e anche la facoltà di rialzarvi nonostante questo brutto periodo che state vivendo sul luogo di lavoro o anche perché non riuscite e non riuscirete nel breve periodo a trovare un lavoro degno di nota, ma non demordete, mi raccomando. Vediamo la sfera della fortuna e dei soldi, abbiamo una donna uomo del toro vergine capricorno, quindi dei segni di terra e lotto di denari, qui potrebbe esserci un po' di fortuna, un po' di abbondanza oppure un prestito o dei soldi che giungono a voi da questa figura maschile o femminile dei segni di terra, oppure portatore o poterice dell'ascendente. Quindi il lotto di denari è legato alle questioni monetarie e quindi qua potrebbe esserci proprio un aiuto generoso, un gesto, proprio un'offerta da parte di questa figura. Ok? Poi vediamo quali sono gli eventuali ostacoli e sfide che dovete affrontare durante questa settimana. Passione e il giudizio, quindi qui dovete ritrovare tutto quello che è in linea alle vostre passioni, a tutto quello che vi fa star bene. Quindi se avete un hobby, se avete una passione, cercate di andare incontro a quella passione, che la passione non è detto che sia per forza sessuale, può essere anche, ripeto, una passione materiale, di un qualcosa anche di hobby. Ok? E questa passione potrebbe generarvi proprio una sorta di rinascita, di rinnovamento. Dovete cercare di avvicinarvi a quelle situazioni che vi portano comunque delle gratificazioni. Ok? Quindi questa è la più grande sfida che dovete affrontare durante questa settimana. Ma poi vediamo eventi vari che possono nascere durante questa settimana. Valutare poi contro la stella, quindi grazie a una valutazione, a una scelta importante, riuscirete a ritrovare la vostra strada. Quindi qui sicuramente ci sarà una scelta da affrontare. La affronterete a testa alta e grazie a questa scelta. Potrete avere diverse opportunità e siete comunque giunti alla strada della realizzazione con dei desideri, dei sogni che si stanno per realizzare. Ok? Infine, che direzione dovete seguire o state seguendo? Trascuratezza e lotto di bastoni. Attenzione a non trascurare una notizia, un messaggio, una comunicazione importante. Mi raccomando che può essere legata anche a un viaggio, a uno spostamento. Attenzione a non trascurare o a non dir di no a questa situazione, a questa notizia che vi giungerà a voi proprio durante questa settimana. Mi raccomando. Ok? Benissimo cari amici, queste sono le vostre previsioni. Vi aspetto sempre qui sul Tagomè. Ciao a tutti e alla prossima!